I soliti idioti 3, il ritorno, grazie innanzitutto per questo ritorno. Quanto vi sono mancati a voi questi personaggi e come li avete ritrovati? Cioè, sono invecchiati bene? Ci sono mancati tanto, perché noi proprio abbiamo bisogno di raccontare quello che vediamo. Con I soliti idioti è l'unico sfogo che abbiamo per raccontare. Quindi sì, ci sono mancati, poi se li abbiamo trovati cambiati, che dici? Ma io dico che li abbiamo trovati molto in forma, nel senso che quando abbiamo cercato di riaccendere la macchina tutti i personaggi tornavano perfettamente e ci siamo accorti che per raccontare quello che ci succedeva intorno erano perfetti e quindi a quel punto è stato difficile, perché non è mai facile scrivere uno spettacolo teatrale, un film è sempre, sempre difficile, però c'era grande divertimento e quando noi ridiamo sappiamo che abbiamo trovato un po' un filoncino d'oro. Sapere di essere entrati nel modo di parlare delle persone, di aver lasciato una traccia con diverse modalità, che cosa rappresenta? Cioè, questo è un riconoscimento più grande magari di un premio per un film? Vi fa piacere, vi dà fastidio dopo tanto tempo? No, fastidio, certo, sentire sicurare dai cazzo tutto il giorno, dalla mattina alla sera, anche quando esce, però a me fa piacere, è una cosa... Beh, essere entrati nel linguaggio insomma comune vuol dire che abbiamo beccato qualcosa di vero, qualcosa che... cioè dai cazzo, scusate ma è una citazione come dice, può dire, non è che non l'aveva mai detto nessuno prima di noi, noi l'abbiamo preso dalla realtà e messo in bocca un personaggio grottesco come Ruggero e quell'affetto, per noi, per noi, a noi devono continuare a dirci o non ci stancheremo mai, ci fa piacere, ci fa piacere. Quando vado in posta, a me purtroppo, no io non posso andare in posta, che è semplice, uno fa, no no venga il mio sportello, va qua, dica, io aia, aia, un attimo che sono subito a lei e mi lasciano lì, poi vabbè, in realtà c'è effetto anche lì, capisco. Però non hanno messo una sveglia. Nel film è basta la sveglia. Perché tornare ora? Cioè, qual è stata la scintilla che vi ha fatto dire questo è il momento giusto? Allora è stato tutto molto casuale, tutto molto naturale, evidentemente è stato il momento giusto di prenderci una pausa un po' di anni fa e poi quando è stato il momento di ritrovarsi è venuto fuori naturalmente con un piccolo aiuto dal destino, dal destino, perché ci avevano cercato per fare una cosa insieme, però l'avevano chiesto separatamente. Tutti e due abbiamo detto di sì per la prima volta, quindi eravamo d'accordo a rivedere anche l'altro. E poi da lì è stato tutto un po' naturale, perché ci siamo rivisti, abbiamo cominciato a ridere delle cose e quindi noi lo aspettavamo, lo aspettavamo tanto, avevamo tanta voglia di rifare questi personaggi e quindi un po' di aiuto dal destino e appunto un po' di fortuna perché questi personaggi effettivamente non erano invecchiati. Assolutamente, c'è uno a cui siete particolarmente legati, voglio dire, Fabio ci sono gli zari. Cioè è come se chiedi a un padre qual è il tuo figlio preferito, però io mi diverto molto, devo dire, ultimamente a fare gli zari di periferia. Ci divertiamo molto, ci piacciono e quindi quelli lì sono ancora molto da esplorare, ci divertono. Però voler bene, li amiamo tutti. Certo, lo gioca Gianluca. Esatto. Cioè sono quelli più, diciamo che proprio esistono, cioè quei due personaggi lì sono reali. Quando li facciamo noi, ma poi io ne ho visti tantissimi in giro, per strada, per il mondo, cioè quella lì è proprio una coppia che esiste. Ma poi Ruggero esiste. Io quando dopo sette, otto anni, cioè dieci anni che non vedevo Ruggero, perché Ruggero esiste solo se questo qui sta a cinque ore al trucco e si fa la maschera. E quindi mi mancava Ruggero, cioè non l'avevo mai... E quando lo hanno truccato la prima volta, io sono arrivato su sette e sapevo che avrei incontrato Ruggero per la prima volta, ero un po' emozionato. Mi ha fatto una sensazione strana come rivedere una persona che non vedevo da tanto. Ed è stato molto particolare, devo dire, quel momento lì, molto bello. L'ultima domanda, permettetevi, la faccio con lo slang degli zarri. Quindi è minchia, cinema, cazzo ritorno, figa paura. Minchia paura, figa paura, figa paura, figa. Figa il ritorno, figa. Minchia il cinema è morto, figa. Figa l'ha morto già a dodici anni fa, figa. Ma l'abbiamo ammazzato noi, il cinema. Minchia adesso l'hanno disotterrato, figa. Minchia è risorto, minchia. Eh, figa risorto. Minchia è un zombie, il cinema è un zombie. Minchia, minchia il cinema, figa. Minchia, anche nella cazza c'è la pagina del cinema, eh. Minchia, nella cazza c'è, minchia altri... Non è vero, figa. Ma minchia io non arrivo mai in fondo alla cazza. Minchia. Leggo solo il calcio, poi il resto lo brucio. Figa hai ragione, minchia.